Ci sono animazioni e animazioni efficaci. Per diventare un reale strumento di successo, un video animato deve essere personalizzato, professionale e accattivante. Per assicurarti i risultati a 5 stelle, noi di presentazione animata, abbiamo creato Sorpassa, un metodo di lavoro esclusivo e professionale per offrirti video animazioni capaci di dare una svolta alla tua comunicazione. Script efficace! I nostri testi sono realizzati da un copywriter professionista per fare in modo che il tuo video racconti una storia interessante, chiara e personalizzata. Originalità? Nessun template preimpostato. Con presentazione animata, avrai a tua disposizione una vasta libreria software con cui rendere la tua storia unica e speciale. Revisioni infinite? I dettagli fanno la differenza. Per questa ragione, lavoreremo al tuo fianco fino a quando non sarai completamente soddisfatto del prodotto finale. Persuasione! I video animati sono belli da guardare, ma devono essere soprattutto efficaci. Con presentazione animata, avrai al tuo servizio solo le migliori tecniche e strategie di video marketing. Attori professionisti, grazie ai nostri speaker esperti, racconteremo la tua storia con il giusto tono di voce, utilizzando esclusivamente strumenti professionali di registrazione, la voce deve emozionare. Specialisti dell'animazione, grafica, testi, audio, video. Ogni elemento delle nostre animazioni è realizzato da un professionista esperto e competente. Presentazione animata sarà la tua squadra di fuoriclasse della videocomunicazione. Soddisfatti o rimborsati? Con noi avrai sempre la garanzia di un lavoro ben fatto. Avere clienti contenti per noi non è un'eventualità, è una vera e propria missione. Alta qualità, assistenza completa, grafica professionale e serietà. Affidati a presentazione animata. Dallo studio preliminare fino al prodotto finale in alta definizione troverai un servizio personalizzato e di ottima qualità. Realizza con noi la tua video animazione e sorpassa la concorrenza.